Mi chiamo Cristina, vivo a Londra, sono la diretrice di un'organizzazione sui diritti umani e noi stiamo cercando di spargere la voce su quello che succede a Bahrain perché è ridicolo e il governo britannico e il governo italiano e molti paesi europei supportano il re a Bahrain e le persone che vivono a Bahrain sono da tre anni attaccati, sono violentati dai loro diritti più basici quindi vogliamo sostenere Zainab, la famiglia Al-Khwaja che ha sostenuto i diritti umani per tanti anni in Bahrain e non ancora sono in prigione e vogliamo che il mondo si svegli e che capisca che sta succedendo una cosa atroce e che i nostri governi stanno supportando queste atrocità ogni giorno e quindi siamo qui oggi a Londra proprio per dire che anche l'Italia deve sapere cosa sta succedendo a Bahrain deve sapere cosa sta succedendo ai bambini a Bahrain, alle persone innocenti e alle persone che difendono i diritti umani non è più possibile nel 2014 avere una situazione come questa in Bahrain per favore aiutate, spargete la voce perché i diritti umani valgono per tutti e sono universali, grazie 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 per la visione! Grazie a tutti.